Barbara D'Urso e Mara Venier insultate dal Mediaset, ci scusiamo per il disturbo. Volano gravi insulti dal profilo ufficiale social Mediaset contro Barbara D'Urso e Mara Venier. Nel corso della puntata di domenica in del 26 marzo, c'è stato spazio per una sorpresa speciale che ha visto protagonista la conduttrice di Pomeriggio 5. La padrona di casa del talk show feriale di Canale 5 è apparso nel talk show della domenica pomeriggio di Rai 1. Per fare una sorpresa alla sua amica Gabriella Labate. E, nel corso dell'ospitata, sul profilo social Mediaset è apparso un tweet al vetriolo rivolto proprio contro le due conduttrici che in quel momento erano in video su Rai 1. Nel dettaglio, Barbara D'Urso è apparsa nel corso della puntata di domenica in di questa settimana con un video messaggio che ha scelto di fare alla sua amica Gabriella Labate. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha parlato anche del suo legame con la conduttrice del talk show dominicale di Rai 1, svelando che le mancano le serate che trascorrevano assieme. Sta di fatto che, nel corso dell'ospitata di Barbara D'Urso da Mara Venier, sul profilo Mediaset è apparso un messaggio contenente delle frasi offensive risolte proprio alle due conduttrici. Che cosa antipatica? Ti mi pare azzeccato Silvi, è il messaggio che è apparso sul profilo Mediasetale da scatenare un vespaio di polemiche sul web e sui social. Poche ore dopo il caos che si era scatenato in rete, ecco che il profilo Mediaset ha scelto di intervenire spiegando che quel pomeriggio c'erano stati degli accessi anomali. Ci scusiamo per il disturbo, fanno sapere da Mediaset e poi qualche minuto dopo il profilo ufficiale social è sparito da Twitter. In queste ore, dopo il fattaccio accaduto sui social, in tantissimi attendono la reazione della padrona di casa di pomeriggio 5. Non si esclude che, nel corso della diretta di pomeriggio 5 di questo lunedì 27 marzo, la padrona di casa del talk show feriale di Canale 5 possa far chiarezza ancora una volta su quanto è accaduto sui profili social Mediaset magari leggere un comunicato da parte dell'azienda per mettere a tacere il chiacchiericcio su questa vicenda che ha tenuto banco sul web. Intanto, Mara Venier, interpellata sui social su questo spiacevole episodio che l'ha vista protagonista, non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo. Molto brutto, ha scritto la conduttrice di Domenica in Achille e chiedeva cosa ne pensasse su quanto era apparso sul profil Mediaset. Grafferul din tot, am tot MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un pui salbatic avezi tu Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe Mafia, parasiții, dragonul, maxi, ghiespe, chimie, rimaru, spike, buia, si, shwapo Grasul, nimeni altul, delvede sau carpo? Trebuie să vă mănânci vers cu vers card intens Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi? Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor Te zici că mă bat cu boss-ul, la câte urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn Mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe Nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul